Benvenuti al canale Fabio Pecce, per noi è importante un tuo mi piace e un commento. Grazie. Ultimamente stiamo ricevendo notizie similari che stanno accadendo in Italia. Intere comunità sono sotto shock per le ultime notizie. Oggi Fabio, Pietribiasi di 29 anni, era anche padre e muore improvvisamente in casa per un malore senza malattie pregresse. La cittadina è incredula. Nessuno sa spiegarsi il motivo. Ma la gente inizia a preoccuparsi e sul web ci sono persone preoccupate, perché le notizie di morti improvvise si stanno allargando anche ai giovani. La notizia è stata un duro colpo non solo per Pisa, dove il giovane Fabio viveva con la sua famiglia, ma anche per tutto il paese, dove Pietribiasi era conosciuto e rispettato. Il defunto, che lavorava a contratto nell'azienda agricola di famiglia, ha lasciato nel dolore più profondo la moglie Rebecca e il figlio piccolo, il padre Mariano, la madre Dorena, il fratello, la sorella e tutta la famiglia. Sentite condoglianza alla famiglia per la prematura perdita.